ciao bambine ciao bambini oggi vi leggerò una storia bellissima è la storia di otto un bellissimo orsacchiotto questa storia ci fa ricordare una giornata molto importante quella della memoria che ricade il 27 gennaio di ogni anno è una giornata speciale e allora noi leggeremo questa storia per imparare dal passato il giorno in cui mi ritrovai nella vetrina di un rigettiere dissi a me stesso sei diventato vecchio caro otto sono nato in una piccola fabbrica della germania e ancora oggi ricordo quanto pungevano gli aghi usati per cucirmi la prima cosa che vidi con i miei occhi di vetro fu una donna mi sollevò disse ma guardatelo non è carino mi avvolse in carta velina e mi chiuse in una scatola un bel giorno sentimi delle voci poi un fruscio un rumore di carta strappata e all'improvviso ecco la luce davanti a me apparve il viso meravigliato di un bambino più tardi veni a sapere chi si chiamava david e che io ero il suo regalo di compleanno david e il suo migliore amico oscar abitavano vicini furono loro due a chiamarmi otto eravamo inseparabili e ogni giorno inventavamo nuovi giochi una volta decidemmo che dovevo imparare a scrivere ma le mie zampe maldestre non andavano d'accordo con inchiostro e pennino il risultato fu una macchia che non andò più via con la macchina per scrivere del papà di david però era tutto più semplice ci divertivamo anche a spaventare la signora smith che abitava al piano di sotto finché arrivò il giorno in cui david dovette portare una stella gialla con la scritta ebreo tutti dovevano vedere che lui era era diverso ma gli uomini non sono tutti uguali noi tre non capivamo più il mondo pochi giorni dopo uomini in uniforme e con neri cappotti di pelle salirono le scale a pasti pesanti venivano a prendere david e i suoi genitori otto tu rimani qua con oscar disse david salutandomi lo vedemmo salire su un forgone e lo portarono via insieme a tanta altra gente con la stella sul petto adesso io e oscar eravamo soli a volte restavamo svegli per tutta la notte e parlavamo del nostro amico un giorno anche il papà di oscar dovette partire per la guerra poi cominciarono i bombardamenti aerei quando suonavano le sirene correvamo in fretta nei rifugi fuori ormai c'erano solo cenere e macerie un giorno ci fu un'esplosione più forte delle altre io volai in aria e svenni mi risvegliai su una montagna di macerie attorno a me non c'erano che rovine poi arrivarono soldati e carri armati si sentiva sparare tutti intorno infuriava la guerra improvvisamente uno sguardo sbalordito si posò su di me fui sollevato da terra in quel preciso istante sentii uno sparo e un dolore acuto al petto anche il soldato che mi aveva raccolto era stato colpito e due infermieri ci portarono all'ospedale il soldato si chiamava charlie mi teneva sempre con sé e raccontava a tutti vedete questo orsetto? mi ha salvato la vita ha deviato la pallottola che doveva uccidermi charlie ricevette una medaglia e me l'appuntò sul petto la mia foto apparde sul giornale e diventai la mascotte del reggimento finita la guerra charlie tornò in america e mi regalò a sua figlia jasmine finalmente avevo di nuovo una casa ma la mia fortuna non durò a lungo durante una passeggiata caddi nelle mani di una banda di ragazzacci mezzo cieco sciupato e pieno di strappi finì in un bidone dell'immondizia mi trovò una vecchia signora che frugava nella spazzatura lei mi vendette a un rigattiere che mi ripulì dalla polvere mi lavò e mi ricucì sei proprio un bel pazzo da collezione disse contento e mi sistemò in vetrina ma nessuno mi notava una sera di molti anni dopo finalmente un anziano turista rimase a bocca aperta davanti alla vetrina con gli occhi spalancati per lo stupore sussurrò emozionato otto ed entrò di corsa nel negozio era Oscar in un inglese stentato raccontò al rigattiere come ci eravamo conosciuti e mi comprò la nostra storia finì sulle prime pagine dei giornali nella camera d'albergo di Oscar una sera squillò il telefono lo sentì dire David non è possibile sì sì veniamo e poco dopo eravamo tutti e tre insieme a festeggiare il nostro incontro la storia che ascoltai era molto triste David e Oscar erano gli unici sopravvissuti delle loro famiglie David e i suoi genitori erano finiti in un campo di concentramento e lì i suoi erano morti il papà di Oscar era morto in guerra la mamma durante un bombardamento aereo ora niente doveva più dividerci decidemmo di rimanere uniti e cercamo una casa per tutti e tre finalmente la vita è come deve essere pacifica e normale e per non annoiarmi ho cominciato a scrivere la nostra storia la storia di Otto questo simpatico orzacchiotto termina qui vi ringrazio per aver guardato il video e vi lascio una bellissima frase di Emanuela Breda che dice se l'uomo coltivasse l'amore e l'amicizia tanto quanto cura i propri interessi i rapporti umani sarebbero migliori allora bambine e bambini impariamo ad essere amici gli uni degli altri io mando un caro saluto a tutti e un bacino a tutte le bambine e tutti i bambini a tutti i bambini a tutti i bambini a tutti i bambini a tutti i bambini